Chiusura della stagione Teatro Ragazzi del Teatro Civico della Spezia con il coro Kids Fabrizio De Andrè in Casting in the Jungle, andato in scena ieri e questa mattina per le scuole in un teatro civico affollato di ragazze e ragazzi. Il coro Kids Fabrizio De Andrè si cimenta questa volta in un'opera buffa completamento originale che attinge dalla celeberrima raccolta di racconti di Kipling, il libro della giungla, con il tema del film a caratterizzare lo spettacolo. Tabacchi, lo sprezzante sciacallo, arriva dal villaggio degli uomini e apre di fatto i provini per quella che sembra essere l'avventura del secolo, il primo lungometraggio diretto e interpretato dagli animali. La notizia turba il secolare equilibrio del popolo della giungla e così, passato il primo momento di entusiasmo e fratellanza, come in ogni comunità non tardano da facciarsi rivalità, capricci, malumori, invidie, frustrazioni, senso di ingiustizia. Tanto che il mondo degli uomini, evocato come simbolo di qualcosa che socialmente non funziona, finisce per riproporsi in quello animale. Uno spettacolo leggero che vuol far riflettere divertendosi, perché tra una gag e l'altra il popolo della giungla sembra volerci comunicare qualcosa. È uno spettacolo sulla libertà, ancora una volta, di esprimersi, che comunque a questa età qua è veramente il nodo fondamentale che i ragazzi devono, i bambini, i ragazzi devono imparare. Ripeto, i più piccoli hanno cinque anni e mezzo, quindi insomma è un grandissimo lavoro, ancora prima che recitativo, espressivo e vocale sulla voce, è veramente una cosa importante sulla loro consapevolezza, il loro grado di crescita. Le musiche sono di Gloria Clemente, laboratorio teatrale di Simone Ricciardi, alle percussioni Davide Sinigalia. Si replica anche domani, martedì 9 alle ore 10. Grazie.